Io ho arrivato a Leo Schuss-Modera Il secondo arbitro è il signor Luca Sovrero di Sabona Buon lavoro anche al terzo arbitro la signora Valerio Rusconi e l'ha detto Ed ora Santi Reiserens, Chiunet e Condola Santiago Nicola Scalanti, La Fuente Il match si apre con il servizio di Modena che si apputa allo schiacciatore tedesco classe 96 192, 193, 193 Il primo punto della gaccia è Don Alencio Il primo punto di scende Il primo punto di scende la seconda linea tocca la linea dei treventi si comincia subito con una video check la linea dei treventi 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 la linea dei treventi